Sindaco Luciani, allora domani in Consiglio Comunale approderà, tra i punti e l'ordine del giorno, quello relativo alla tassa di soggiorno Francavilla al mare. Come mai questa decisione e come mai domani in Consiglio Comunale? Beh, questa decisione perché era arrivato il tempo, è matura, noi abbiamo lavorato in questi sette anni per rendere Francavilla una città turistica, per farla tornare ad essere una città turistica, ci siamo riusciti e ora è giusto percepire questi fondi che saranno riversati sul nostro territorio per incrementare ancora di più la nostra attività in tal senso. Non sarebbe giusto pensare che io francavillese vado, non lo so, due giorni in vacanza a Roma e pago 10 euro di tassa di soggiorno e poi viene il turista romano qui e non ci dà neanche un euro per il soggiorno di nostra struttura. È una tassa, secondo me, equa, tra l'altro è un'imposta e è anche errato definire la tassa. Era stata introdotta nel 2011 dal governo Berlusconi per un'imposta nel pacchetto del federalismo fiscale, io la ritengo equa, non grava sui cittadini e devo dire che non grava neanche poi così tanto sui turisti perché ormai sono abituati a pagarla praticamente in tutto il mondo, si paga anche all'estero. Non è che si può pensare che scelgo di andare in una località piuttosto che in un'altra perché in una località paga un euro di tassa di soggiorno o in un'altra non la pago. Basti pensare a Rimini e Riccione che ce l'hanno ormai da tanti tanti anni. Quanto ammonterà la tassa di soggiorno di Francavilla? Per noi è una previsione perché è una prima istituzione, noi pensiamo, abbiamo in maniera abbastanza cauta come siamo abituati a fare, abbiamo stimato un ingresso tra le 100 e le 150 mila euro per l'anno di prima applicazione, però contiamo che questo numero possa crescere.